C'è una nonna vittima che si aggiunge all'ottodonna, oggetto di pesanti attenzioni da parte di un tunisino di 20 anni, Ryan Wast, in carcere con l'accusa di violenza sessuale. Tutti gli episodi nei pressi della stazione di Padova, dove lo straniero in alcuni casi avrebbe agito anche con un complice, per ora rimasto sconosciuto. Il giovane in carcere a Belluno, ma a novembre comparirà davanti al gruppo del Tribunale di Padova, dopo che il PM Sergio Dini ha chiuso l'indagine contestandogli il reato di violenza sessuale su sette donne, mentre su un'ottava l'inchiesta resta aperta. La nonna possibile vittima avrebbe riconosciuto Vasti da una foto segnaletica e agli inquirenti ha raccontato la molestia subita sempre nella zona della stazione di Padova.